Mi chiamo Marino Petrarolo, ho 67 anni e arrivo da Como, che è una città vicino Milano. In clinica ho fatto l'estrazione di alcuni denti, ho estratto due impianti precedenti e una volta ripulita la bocca abbiamo messo sei impianti sotto, sei impianti sopra. Devo dire che sia nella prima fase il chirurgo è stato bravissimo, bravissimo mi sembra Alessander si chiama. Successivamente il protesista è stato anche lui altrettanto bravo, ragazzo giovane, ma ha dimostrato di conoscere bene il mestiere. Mi ha portato di passo passo sia nella prima fase in cui ho fatto le arcate provvisorie sia in queste definitive, devo dire, è stato veramente bravo. Allora, sono venuto qui dopo aver fatto qualche ricerca su internet di studi dentistici all'estero che potessero soddisfare quello che erano le mie aspirazioni. Una chiaramente è quella di avere dei costi più contenuti rispetto ai costi italiani. Una, forse quella base che mi ha convinto a venire da voi, era il fatto che gli impianti, le arcate, venivano avvitate e non incollate. La seconda cosa che mi ha fatto scegliere voi, chiaramente, è il fatto di avere una clinica e poi ho scoperto successivamente molto più grande di quello che io immaginavo, comunque di fatto italiana. Io ho trovato tutto personale che parla italiano. Beh, il sorriso è importante, è molto importante chiaramente perché fa parte un po' anche della personalità. A parte che io sono una persona che amo molto il sorriso negli altri e figuriamoci se non devo amare il mio, ma il sorriso mi viene facile.